Abbiamo fatto grandi nel mondo del motocross e continuano a farci grandi nel panorama corsistico internazionale per la loro bravura, per la loro segretà, per la loro determinazione, per la loro capacità di essere protagonisti sempre in questa disciplina. E allora, ammiriamoli in questo uno contro uno, ammiriamoli in questa sfida che li vede opposti amici ma rivali ma adesso per passare nella finalità, per la scuola di Conte con Dribos, il desiderazionale di Aero, puro controllo!